Ma guardate quanto mi rispettano questi Pokémon Vai, Chimchar Graffio Mi sembra un po' Un po' sballonzolato Questo, no? Non me lo tiro Ah, perché? È squadrato Fermi perché è squadrato Allora, lo fixo anche Buongiorno Buongiorno Mica brutto giocare in 4x comunque Spesso si fa vedere come catturare un Pokémon Oddio Non mi daremo in scritto Polkocincher A voi chat invece qual è il vostro Pokémon preferito? Sì Due piedi Distendiamo un po' di opinione vostra Ma chi è che li cattura i Pokémon? Agron Interessante Agron Ma adesso sfruttiamo Gennaro Bullo in teoria no Ma sbaglio o scala lentamente Ninjasca Ma sbaglio o scala lentamente Ninjasca Ma sbaglio scala lentamente Ninjasca Musuga Ah, ma perché va sull'ultima utilizzata? Gennaro Bullo Vai Gennaro Bullo Vai Gennaro Bullo No, Ricky Bullo Usa rafforzatore Faccio più 3 in difesa perché ho meno HP di lui in questo momento Mi sta distruggendo l'attacco La domanda è ma io quanto gli faccio? E nulla Bene Il sangue su che invece quanto gli faccio? Non essendo efficace 1 Poi andiamo avanti a graffio Cambia appunto una zanzera sull'orecchio Dalle usa l'attacco rapido ma si attacca Dalle usa l'attacco rapido ma si attacca Dalle usa l'attacco rapido Dalle usa l'attacco rapido Sembra farcela Sanguisuga Proviamo a restare in vita Facciamo cagare Poco mi fa cagare 40 euro gli ho sborsato il vincitore perché ho perso Dai veloce Non siamo riusciti a passare il richibullo E quella lega come cazzo la passiamo Guarda Ma vaffanculo Te le pezzi Colpa è degli stalli che affronto qua per non perdere solo meno tempo Andiamo qua dal dottore Venditiamoci un attimo Vai graffio Vai di graffio Meno 6 Vabbè Eh Eh Via giù tutto Una gara che fa più danni Eh Via 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 pulito Troppo forte troppo forte Dai Fuori dai coglioni Qua abbiamo la fioraia Vai cacciami un bel bibere Quanto gli fa il sanguessuga? Dai Veloce Vai ninjas Siamo tutti velocitizzati oggi Via 21 HP noi No 20 HP noi L'è morta No è un altro di pokemon Qua dov'è Sarà un altro video qua bene E noi glielo secchiamo Sembra se ne messuga Ma non fa È un full vita Tanto Quello che lei ci leva noi lo recuperiamo così No è più 2 HP e lei se ne va Vai tira dritto tira dritto bro Bidduff al 3 Bene bene Dobbiamo expare raga Non abbiamo altre chance Cioè Letteralmente In questo momento Se non portiamo il ninjas Che almeno al 26 Non la passiamo male La prima palestra Cioè dobbiamo overgappare la prima palestra Poi vivremo di rendita Attenzione Perché Non bisogna anche dire questo Però Dobbiamo fare un sacco di Di exp Ho sbloccato le mozzi A me bro Pam 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 Dennaro bullo Vai vai Che leggi No Lodovico Lodovico Vai Veloce 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 Buono così Ma il nostro ninjas Ragazzi è on fire È un fire Cazzo il nostro ninjas Ho fatto anche la canzone ninjas Via, noi ammazziamo tutto quello che ci capita a tiro Vabbè, evitiamo di andare super Non ho detto nulla, vabbè Volevo evitare di andare al centro Pokémon Comunque, ovviamente Vogliamo andarci Sotto qua, dai Filippo Dai, dai, abbiamo Nido Scabbiamo Non è venuto, sembra difficile farlo a scuola di Antoni Non è perle da poco Acquidiamo il pacco, una mappa della città Bene Mi serviva Mineropoli Vabbè Questo qua, pensi di diventare il migliore Non ha idea del nostro ninja, che cosa può fare Il nostro ninja, ragazzi Il meridio Salutiamo questa brutta vecchia Che lavori Io volevo salutare te Non sapere come andavano i lavori Sappiamo tutti che i lavori vanno male C'è questo signore qua in viola Il Pogicron Il Pogicron Non so cos'è il Pogicron Dobbiamo trovare tre clown Bene Andiamo a trovare tre clown Il primo Eccolo qua Ciao, sono un clown Sì, sì E sarà che anche io Sono 55 miliardi di challenge che voglio fare Dunque Sì, sì Ovvio posso tenere gli strumenti Buono Andiamo dal signore in viola Con tre Abbiamo fatto addirittura in ordine ragazzi Come friend Bene, bene Grazie Buono Tocchiamo lo schermo Bene 4.0 Buono Vai Alvise Leviamo sto mouse qua Assolutamente Vai Fatti Fammi Fammi vedere Quando sei bravo Signore Alvise Vai Starly Al 7 C'è il culo questo Suggito Graffio Raga ma questo Non ho usato veramente Trarogiti in fila Oddio Santo Adesso ho preso Ninjas Che lui ha preso Non può aver preso Pipap Ma come Tartwig Io non ho danni raga Turbo sabbia Turbo sabbia Raga Va davanti a turbo sabbia E gliene levo Qua Faccio tre Raga il nostro Il nostro Sfugate Non credo Faccia danni Il nostro Graffio Non credo Faccia danni E Non fa neanche danni Sanguisuga Ma sembra Il minor dolore Perché almeno Recuperiamo una Cappia anche noi E fa brutto colpo Bello Bello Dai 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 Vai Ninjas Un altro Ninjas Doppio brutto colpo Oh Ma chi è Che è Che diceva Pippo diceva Che era scarso Zitto Pippo Zitto Pippo Prendilo al culo Pippo Andiamo dritti Portiamo questo Bambino Vai vai Ovvio che abbiamo Legato Vai Mimo E secondo te Io ho paura Di uno Di uno Sfuntino Giapponese Sei matto Via Brutto colpo Punito Ruggito Ruggito Bella Ciao Panda Bellissima Signora Signorina Anzi Vai Sanguisuga Eravamo Eravamo in fin di vita Eravamo in fin di vita Ma che giochi di bello Siamo su Pokemon Diamante Con solo Ninjas L'idea era farla Da blind Quindi con Con la benda Però Effettivamente abbiamo constatato Che con solo Ninjas Che è molto difficile Farsi Dunque Andiamo a fare Una challenge Magari apposta Fin là Vediamo a giocare Con la benda E qua Ti attacchi qua Dunque andremo MN06 Paccaroccia Quindi siamo andati Al centro commerciale Bella Domani si va a Milano Aspetta Siamo secondo la chat Perché Se no Non riesco a leggerla Properly Forse un attimo Refresh un po' Per vedere chi c'è C'è anche Catta Non ho mai visto Catta Buono buono Io dubito fortemente Che Ninjas Lo possa imparare Spaccaroccia Penso che ci servirà Uno schiavo MN Qua abbiamo questo Questo scout Questo scout Lo Lo purghiamo Questo scout Aldo ma c'è Il tuo campeggista È uno scout Graffio Poi mi sguardo Molto bene Siamo più veloci Di te Fa Graffio Seco Tu mi sguardo Grazie Noi siamo ancora più veloci di te Meno che non hai Perfetto Ti ha punito Perfetto Andiamo dritti 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 Cosa abbiamo trovato Oh no Uno zubat Oh mio dio Graffio Via anche per lui Per tutti Super suono Graffio Vai Brutto colpo Arrivederci Lo stiamo Evzando malissimo Non è che abbiamo Altre alternative Però Baju Sanguisuga Tutto a scudo Che se ne fa Graffio Bene bene Dai Dovremo farlo Ce lo facciamo Sì abbiamo avuto Roll fortunato 85 Andiamo Vai 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 Sanguisuga Zero Sanguisuga Qualcosa Effettivamente Fa Però Raga Se lui Fa una Qualsiasi Mossa Tipo Rocci Ci fulmina Raga Si fa Sparire Fa Potenza Di C'erli Molita Adesso Andiamo A Mineropoli Comunque Anche Perché Poi La palestra Beccherò Il gioco Dal 14 Non è Che Per Qualche Oscuro Motivo Ninjas Chi impara Poi Spaccaroccia Verebbe Sennamente Utile Adesso Dovrei Convertire Lebs In Ad In Anno Vai Con Sto Graffio Andiamo Andiamo Dai Andiamo Spero Di Ho visto Adesso Vino 15 Portocolpo Anche Il culo 9 Vai Arenatore Andiamo Andiamo Stiamo Effettivamente Nelle prime Armi Tanto Dice Un casco Giallo Andiamo Alla Palestra Non c'è Tempo Via 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 Assolutamente Certo Vogliamo Farsi Spero Dalla Nostra Squadra Andiamo Veloci Come Folgore Come Il Vento Ora La mia Squadra No Arrivederci Arrivederci